Adesso di non arrabbiarmi stasera, ok? Mi sono pro me perché vi devo dire delle cose Perché Riccardo Rosario, come avete detto dal titolo, contraattacca e contraattaccherà tutto il web Rubino, sono stato da Davide Rubino, per caso, random Dove ho fatto un piccolo dibattito con Simone Santoro E giro in nuovo anche qui ovviamente Il mio invito nel prendere un caffettino, caffettino goliardico Perché ecco, fanno tutti i bulletti, no? Chi, ecco, Marra fa palestra, come si chiama l'altro, Flame fa box Allora ecco, si pensano che magari uno Siete questo, vedete? La sottosuola delle mie scarpe, ok? E sempre lo sarete Perché Riccardo Rosario, potete mandargli tutto quello che volete Non si abbatterà mai, non si arrenderà mai Sarà sempre qui, con la sua famiglia Sempre, sempre, sempre Ora, ho mandato un messaggio a Fedez E mi auguro che ci sia una risposta positiva Confido in lui Perché se tutto il web finora mi ha dato contro Io sono sicuro che ci saranno persone Che capiscono e capiranno Realmente Riccardo Rosario e la sua famiglia Ok? È importante È importante Detto ciò Tutte le persone che mi hanno attaccato Tutte le persone che continuano a farlo Sono qui Sono qui nella mia mente E non andranno mai via Perché Rosario è amico ed è buono a tutti Ma Mi dissocio Mi dissocio Cazzo Cazzo Gli volete finire Sti cazzo Di 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 segnini del Cazzo Sti cazzo Di scritture che fate voi Mi dissocio Non fanno nulla a me Lo volete capire Che non fanno nulla a me A me non fanno nulla Io mi dissocio Non fanno nulla Voi C'avete proprio La scatoletta Di 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 pomodoro Nella testa Nient'altro Le scatolette di pomodoro C'avete Bah Gente che vuole scrivere Vuole far domande Vuole vedere Vuole capire Deve vedere A voi Cazzari Che dovete fare queste cazzo di cose Andate da un'altra parte Io Domani Organizzerò la programmazione E tutto il resto Su Twitch Presto pubblicherò tutto Sul mio Instagram E tutti questi cazzari Che poi faranno lo stesso Perché siete fortunati Che io sono dal cellulare Anche sul PC Io mi divertivo a bloccarli Uno a uno Quindi divertitevi per stasera Perché sarà solo per stasera Perché quando io avrò il PC Cioè da domani Salvo poi la sera La notte Che io uso il cellulare Per comodità Ok Io vi bloccherò tutti Vi bloccherò tutti Ok Detto ciò Tornando a noi Allora Io Sono stato Preso di mira Da troppe persone Mi rendo conto Allora